A seguito dell'ordinanza del Comune di Cerveteri e del Regolamento dell'Amministrazione di Ladispoli, i gestori dell'Oasi di Torre Flavia si impegnano a far rispettare il divieto di accesso ai cani su tutta l'area protetta, compresa la spiaggia. «È molto importante non sostare con gli animali nei pressi del monumento naturale, soprattutto nel periodo di nidificazione del fratino e del corriere piccolo», si legge nella nota dell'Oasi. «Qualsiasi cane, infatti, anche considerato mansueto, stressa gli uccelli». Ci saranno organi di polizia giudiziaria che con una certa frequenza controlleranno la zona e potranno elevare sanzioni. Con gli amici della Lipo saremo a disposizione per trovare nuove soluzioni assieme ai comuni, così da consentire l'individuazione di altre aree dove far passeggiare i cani. Inoltre i gestori hanno pubblicato un vademecum per il volontario con delle regole semplici ma indispensabili da seguire. Sorvegliare che nessuno oltrepassi le delimitazioni dei settori di nidificazione, osservare i nidi a una distanza di almeno 30 metri usando il binocolo. Non pubblicare foto sui social, in quanto la pubblicità della loro presenza rischia di essere dannosa.